9-8, record della pista. Siamo con Andrea Farolfi, dopo l'incredibile, grandissima vittoria di Cosmo Spritz, 1-9-8, record della pista di Milano. Andrea, la tua sensazione a caldo? Il cavallo che aveva dei grossi mezzi era sempre di mortale. Abbiamo lavorato sul carattere, io per quello che ho potuto, me lo sono sistemato come diceva me. Oggi ero sicuro che c'era una prestazione, perché viene da una prestazione prima che è controschema, corre con i nastri, sbaglia. Da ultimo ha previso, l'intriso viene via, gli ultimi 800 metri, fa l'arrivo. Oggi ero sicuro che il cavallo ci sia. In punto, hai parlato di cambiamenti, stati cambiamenti a ferratura, la briglia, cos'è cambiato? Abbiamo cambiato, abbiamo tolto il freno, abbiamo tolto i ferri, abbiamo tolto un po' tutto. Ok, perfetto, complimenti.